Questo è il mio giaciglio per tutto l'anno, 360 giorni all'anno e dormo sempre qui ma un materasso un materasso di lana quindi non è per niente umido. L'inverno metto una trapunta doppia e tutto lì e appunto come dicevo a me piace vedere appena mi sveglio vedere ne vedo solo un pezzo di cielo sai così mi rendo conto. Oggi piove oggi nevica oggi fa bello e a volte al mattino magari mi sveglio cioè vado nell'orto faccio scalzo per curarmi i piedi sulla rugiada mi faccio per un quarto d'ora avanti indietro vedo l'albero che ha messo i fiori l'orto che è cresciuto dico ma questo è un miracolo e c'è la vita è bella la natura è bella è una cosa però non riesco a dire grazie a dire grazie a Dio perché io Dio non l'ho mai visto io vedo appunto ci siamo io e te i due gatti cioè perché se non lo vedo e non lo sento cioè non è solo il fatto ottico di vederlo o di sentirlo 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 e niente io dico la vita è una cosa una cosa bella tutto lì perché c'è una cosa miracolosa anche la vita di noi esseri umani degli animali della vegetazione tutto lì però il cielo grazie al cielo io a volte dico molta gente dice grazie a Dio io certamente non grazie al cielo perché poi il cielo che decide molte cose tipo sulla natura vediamo appunto la pioggia è utile il sole è utile la rugiada la neve è utile perché quando nevica previene ripara dal gelo anche la neve